come da un percorso di visione si scende ad un percorso concreto di piano di impresa perché anche questo mi sembra un pezzo questa è una delle oggi siamo già persi non c'è più che gli è successo? perché faccio dopo torno sulla chiavetta eh ah fai così stai seduto qua va che ti rende utile la causa questo se andate sul sito è quello che oggi è o meglio è dietro alcuni mesi qui trovate una ventina di questi luoghi di cura che poi per problemi diciamo con le varie le varie decisori locali bisogna ufficialmente chiamarli ancora poliambulatori perché c'è tutta una logistica diciamo però io li chiamo luoghi di cura questo è quello che vedete oggi dopo vi faccio tornare indietro questi sono quelli diciamo aperti direttamente a marchio poi ce ne sono un'altra decina che utilizzano che hanno preferito diciamo rimanere con i loro marchi locali uno è a Salerno si chiama Sissaf c'è anche a a dove a Matera credo poi ce n'è un altro che si chiama Medicina oggi che sta a Crotone comunque li trovate vedete Monza, Napoli, Ponte d'Era, Reggio Emilia Roma, San Pellegrino Sesto Fiorentino Siena vai schiaccia su uno schiaccia su uno ad esempio Reggio Emilia no, fai Reggio Emilia ad esempio ecco questo ad esempio è Reggio Emilia c'è tutte queste offerte per capirci ti muovi in un campo dove le prestazioni ci sono ancora però utilizzando quel campo poi dentro questo luogo di cura adesso vi faccio vedere un pochino che cosa che cosa succede comunque vabbè se volete smacchinare lo trovate lo trovate un po' adesso ne sta aprendo sta aprendo Bologna Bolzano Torino Lodi ah ok da dove viene questa cosa qua torna adesso qui bravo allora vi faccio vedere il piano diciamo quello quello su cui raccogliamo il capitale e l'idea di Welfare Italia venne sostanzialmente da da diciamo da una parte una lettura interna a che punto eravamo come sistema di cooperative sociali di questo consorzio nazionale che si chiamava che si chiama ancora CGM trovate cgm.coop trovate il sito che è il consorzio più longevo e più grande di cooperazione sociale che c'è in Italia ed è la più grande impresa sociale che c'è in Europa perché fa più di circa un migliaio di organizzazioni in un sistema di proprietario a rete con circa 45.000 persone che ci lavorano circa 7-8.000 volontari 6-7.000 inserimenti lavorativi tra carcere disabili una serie di società partecipate e soprattutto diciamo 700.000 famiglie servite è presente un po' in tutta Italia allora mi ricordo c'era anche un piccolo consorzio a Taranto credo che non ci sia più che sia morto Solidale credo si chiamava e qui in Puglia c'è Meridia Bari La Nuvola Brindisi Emanue La Lecce quasi sono eh allora però la lettura interna è che già nel 2005 noi la sensazione è che la cooperazione sociale appunto sarebbe entrata in qualche modo in crisi perché le tendenze si vedevano già allora la grande crisi avviene nel 2007 la crisi economico-finanziaria ma le tendenze espansive legate alla pubblica amministrazione dall'altra parte sempre di più le esperienze interne che facevamo erano esperienze di collaborazione con altri che non erano solo cooperazione sociale e interventi per e con le persone che andavano un pochino al di fuori del classico socioassistenziale cioè del centro di urno per disabili piuttosto che dell'assistenza domiciliare piuttosto che della comunità psichiatrica piuttosto che dell'inserimento lavorativo attraverso il taglio del verde pubblico per dire ah tenete conto che stiamo parlando di un miliardo e quattrocento milioni di fatturato di euro stiamo parlando di cose significative cioè quindi mediamente un milione e mezzo a organizzazione poi ci sono incroci di fatturato quindi insomma una cosa ma no che c'è il suo perché sì sì io sono stato fiero insieme ad altri di portarla in giro per il mondo questa cosa ha contribuito a tutta una serie di a proposito di innovazione avete mai sentito dire un politico che l'innovazione sociale negli anni 80 si è chiamata cooperazione sociale in Italia che bisognava riuscire a portarla nel politico europeo vabbè siamo perduti comunque cominciavamo a fare delle cose per le famiglie direttamente la cosa più grande prima di questa è stata certamente l'operazione degli asili nido anche qui lo trovate si chiama Panna lo trovate il sito che facemmo proponemmo noi a Banca Intesa San Paolo e poi dopo fu coinvolto Compagnia delle Opere Lega Coop Sociali la Federazione degli Asili Cattolici che comunque con un capitale con poco capitale un milione 300 mila euro di capitale ha contribuito alla ristrutturazione o alla nascita ex novo di 400 asili nido stiamo parlando di 10.000 posti bambino negli stessi anni in cui il governo metteva lì 500 milioni che non sono andati da nessuna parte non hanno prodotto esattamente nulla per dirvi che i soldi non sono non sono la cosa fondamentale caro il mio Massimo questo tipo di esperienza avvicinandoci alle famiglie ci faceva ci faceva percepire come la situazione si andava comunque impoverendo i bisogni salivano le badanti allora l'idea era di cominciare a girare intorno diciamo anche al versante sanitario proprio perché poi le consuetudini le abitudini andavano molto sul sanitario qualcuno cominciò a fare delle piccole esperienze con il dentista qualcuno con qualche consultorio psicosociale magari con all'interno il ginecologo perché ci sono sempre i nostri così nel 2007 decidemmo di appunto di lanciare il marchio che era questo che poi dopo ha dato vita a quello che avete visto un po' più stilizzato si vede sul sito costruemmo un piano di impresa con alcune idee di fondo la visione era fare qualcosa vicino alle famiglie con le famiglie che comprendesse diciamo un contributo sul versante sanitario e territoriale quindi non fosse l'ospedale non fosse la clinica e siamo partiti insieme a una società di consulenza diciamo significativa che nel mondo diciamo ha prodotto cose buone e cattive comunque in grado di produrre una riflessione analitica schematica utile per costruire un piano di impresa che si chiama McKinsey & Company che ogni anno al mondo produce alcuni pro bono per una serie di relazioni in quell'anno il pro bono cioè gratuitamente staccò 5-6 persone sostanzialmente ci hanno regalato 2 milioni 2 milioni e mezzo sono persone che costano significativamente a giornata e abbiamo messo un pochino alla prova l'idea l'idea era dei luoghi di cura sul territorio che comprendessero al proprio interno diverse discipline ma soprattutto costituissero per le famiglie un punto di riferimento per i bisogni che via via andavano allargandosi con l'idea di lavorare contemporaneamente sia sulla domanda l'aggregazione della domanda che sull'aggregazione dell'offerta ci muovevamo sul sanitario quindi dovevamo muoverci con un sistema in grado di crescere contemporaneamente in più punti e non una cosa sta da sola a Torino l'altra sta da sola a Bari l'altra e poi vabbè ci troviamo ogni tanto alla festa del cotechino selvaggio perché entrando nel mondo sanitario la consapevolezza è che entri in un mondo in cui esiste un sistema gerarchico un sistema scientifico un sistema di comunicazione per cui devi leggere il colpo come vi ho fatto vedere prima qualcuno è stato al gioco qualcuno ha fatto il solito free rider si è preso l'idea e se l'è portata via e si è fatto i cavoli suoi secondo me destinati a morte questi perché queste operazioni o si fanno complessivamente se no è molto difficile anche perché sei molto attaccabile che si entra diciamo a toccare interessi rilevanti e vi voglio solo far vedere cosa è cosa che secondo me dovete fare anche a voi immaginando il vostro futuro che cosa vuol dire costruire un piano strategico di impresa qui stiamo parlando è appositamente abbastanza lontano dalla vostra di una cosa abbastanza grande che però dopo scendeva e faceva tanti piani locali molto precisi non è detto che tra due o tre anni questo sia un progetto che vi interessi vi collegate ci sono dei rapporti commerciali c'è tutto un meccanismo va bene? chiaro? mi interessa il metodo ok let's ok i messaggi chiave sono quelli che arrivano adesso vai ok la missione questo è un punto fondamentale dopo la visione e lì la visione era stava cambiando il welfare ci troveremo in una condizione per cui a fonte dell'ampliamento dei bisogni lo Stato non sarà in grado di rispondere a tutti questi bisogni insomma un po' le cose che vi ho detto prima nel 2007 quando siamo partiti non erano così chiare però le tendenze si vedevano a fronte di quella visione che cosa voleva fare questa impresa sociale specifica essere accanto alle famiglie in tutte le fasi della loro vita dall'infanzia all'anzianità con la capacità di promuovere il benessere rispondere alle necessità quotidiane gestire insieme le situazioni di disagio attraverso la ricerca e lo sviluppo sul territorio di un'offerta completa di servizi a marchio di qualità quindi l'idea di connotare un marchio di qualità e a tariffe accessibili orientamento delle famiglie verso i servizi a marchio più adatti per i propri bisogni quindi un cappello abbastanza grande la forma dell'impresa è un'impresa privata ma con finalità di interesse generale tenete conto che attualmente anche il governo Renzi sta affrontando la riforma del terzo settore con l'ipotesi di ulteriore miglioramento della legge sull'impresa sociale che attualmente è immatura che non è la cooperazione sociale è di più non è meglio o peggio può essere un SRL un SPA però a finalità sociali e non a finalità speculative noi qui l'abbiamo forzata e abbiamo già detto noi cominciamo a farla prima non c'è ancora la legge proviamo a sfondare così come le cooperative sociali sono state fatte prima dalle cooperative di solidarietà sociale che quando non c'era ancora la legge la cooperazione sociale arriva nel 91 le prime cooperative di solidarietà sociale sono della fine degli anni 60 che è quel pezzo di trasgressione che nessuno fa più e invece bisogna un po' trasgredire è come quando si è cominciato a fare gli agriasili che non c'erano gli asili dentro le aziende agricole piuttosto che le fattorie di da cioè bisogna spingere perché se non si spinge la legge che arriva è sempre troppo astratta se si generano delle esperienze queste esperienze aiutano poi a costruire ma non voglio far diciamo pistolotti sulle politiche strategiche allora questa azienda privata coniuga la solidarietà alla finalità con sociale ecologica di mercato e capacità competitiva mette al centro le famiglie organizzate per rispondere ai bisogni il miglioramento continuo l'individuazione nuova e nico è socialmente responsabile trasparente per dirvi nelle regole comunque tra chi guadagna di meno e chi guadagna di più al massimo è 5 volte tanto cioè se uno è quello che guadagna di meno guadagna 800 euro il massimo dirigente può guadagnarne 4.000 cioè scelte anche di posizionamento che possono sembrare banali ma che in fase fondativa si abbia il coraggio di mettere dei pilastri è molto importante vale max perché ce n'abbiamo una trentina quindi andiamo più a casa se no da dove partivamo l'ipotesi è appunto aggregare orientare la domanda qualificare e sviluppare l'offerta partendo sostanzialmente avevamo detto dalla sanità leggera poi doveva discendere anche attraverso la casa il lavoro devo dire che se andrete sul sito ICGM ad esempio sul lavoro troverete il consorzio mestieri che sia è l'unico cosa no profit che c'è in Italia che orienta il lavoro e tra l'altro secondo me vi sarebbe utile guardare anche quell'esperienza lì parallelamente avevamo fatto anche quello sulla casa non è stata fatta una cosa nazionale ma sono state fatte cose molto interessanti che anticipavano tutto il tema dell'housing sociale e oggi ci sono esperienze soprattutto al nord molto interessanti se voi venite un giorno a fare un giro appunto sto parlando di forme dell'abitare non di comunità alloggio per disabili magari c'è anche la comunità alloggio ma star dentro un posto dove ci sono anche le case normali c'è lo studentato c'è l'orientamento del lavoro c'è un ristorante in alcuni casi sono addirittura quartieri fatti così comunque noi adesso ci concentriamo sul pezzo di sanità leggera il tema dell'aggregare la domanda e tradurla in termini cooperativi vuol dire ritornare a fare i pensieri mutualistici l'ipotesi era recuperare ciò che abbiamo buttato via rapidamente negli anni 70 tutte le mutue che c'erano che erano collegate a sistemi professionali a sistemi aziendali a realtà territoriali e che erano esattamente figlie del periodo tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento che aveva visto nascere sotto la spinta cattolica da una parte rerun rovaru e socialista dall'altra diciamo l'autonomia del popolo diverse esperienze imprenditoriali importanti in Italia tutti sono dimenticati ma le banche popolari vengono da lì non c'erano prima e anche le banche di credito cooperativo da lì vengono le cooperative di consumo da lì viene l'associazionismo artigiano da lì vengono i sindacati da lì cioè un movimento esattamente in una fase in cui la società italiana transitava da una fase fortemente agricola contadina ad una fase industriale e cittadina eh ma è molto importante per dire quella è stata una delle ultime trasformazioni fortissime a cui poi la società civile ha contribuito non le ha fatte lo Stato la Banca Popolare la BCC le cooperative edilizie non le ha fatte lo Stato hai capito bene? ma potrei andare indietro nel Settecento queste furono le opere di misericordia religiose da una parte e tutte le case operaie la storia italiana quando vi parlavo che è comunitarista è perché tendenzialmente insieme al pane delle murgie produceva anche delle forme istituzionali che riguardavano il popolo nessuno si ricorda più che già tra il 200 e il 400 le banche hanno avuto due fonti una è stata quella dei grandi dei grandi come si dice principi che attraverso le loro banche finanziavano la guerra ma l'altro sono stati francescani San Bernardino da Siena le banche in Italia vengono uno dall'aggregazione dei ricchi l'altra dai francescani per dirvi quanto va in dire gli ospedali non li hanno mica inventati gli ospedali sono legati alle opere di misericordia bravissimi possiamo fare ok quindi da noi si trattava di andare a recuperare queste forme di mutualizzazione alla domanda anche perché e questo ve lo dico diciamo vivendo voi diciamo al confine di questo mondo nel mondo socio-sanitario uno dei grandi problemi del futuro è esattamente la sostenibilità della sanità cioè in un incontro diciamo con lo staff di Obama prima delle elezioni ma al di là dei modelli ipercapitalisti o statalisti quello che non regge più è che ha bisogno corrisponde immediatamente servizio allora l'unico modo per contenere i bisogni perché trattasi esplicitamente di contenere i bisogni è mutualizzare i bisogni traduco noi intorno a questo tavolo sappiamo che ci mettiamo tutti 5 euro intorno a questo tavolo decidiamo gerarchicamente chi viene prima il tuo tumore o le sue unghie incarnate il suo il rifarsi i capelli del Johnny o il tuo la tua dialisi perché oggi la gente ha perso totalmente questo tipo di di gerarchia del bisogno tutti immaginano che il proprio bisogno è assolutamente il più perché c'è qualcuno che eroga quindi non usare più quella parola lì apre il rubinetto tu devi solo andare lì e dici ok apri che bevo e no e no ma guardate al fondo della crisi finanziaria dei sistemi sanitari regionali c'è esattamente questo poi c'è chi ruba ci sono quelle robe lì e quindi bisogna come dire lavorare sempre perché le cose siano fatte con efficienza efficacia fatte bene ma c'è un problema di sostenibilità del tipo di attesa in una famiglia si fa così il mutualismo era esattamente questo ok perché i genitori dentro la vostra è perché voi dovete mutualizzare il bisogno capite che cosa succede succede che quindi welfare italia è quella che lavora sostanzialmente questa domanda aggregata e da una parte la orienta verso i servizi e noi inizialmente ripeto stavamo concentrati su questa parte sanitaria di sanità leggera territoriale quella che appunto nella legislazione attuale sono gli ambulatori i medici che non trovi quasi mai quando vai all'ospedale che devi fare le code eccetera eccetera e dall'altra parte quindi oggetto quello e dall'altra parte sviluppare un format che fosse replicabile ok quindi su alcune linee abbiamo usato per forza una parola un po' pesante che è franchising però quel marchio aveva dentro una serie di condizioni di scelta del personale di valutazione della qualità del servizio di struttura architettonica di prezzo di ok di apertura di 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 che erano quelle ok poi tu a Taranto le traducevi aggiungendo delle altre cose no io ci voglio mettere ma su quelle tutti dovevano dimostrare perché questo permette ad esempio avendo lo stesso sistema informatico di raccogliere i dati e poter andare poi ai comitati scientifici o agli incontri internazionali cioè di non fare i ragazzini che facevano una bricchellaria no no ma di dire questo sarà un pezzo questo è essere orgogliosi sarà un pezzo fondamentale della sanità nel 2030 ok buff vai allora qui un altro pezzo importante dal punto di vista culturale per i cooperativi sociali immaginando di andare a prendere tecnicamente le parole sono un po' pesanti un target cioè un pezzo di popolazione che era allora noi consideravamo eravamo prima della crisi nella zona grigia cioè né nella zona poverissima tra gli 0 e gli 8 mila euro né nella zona oltre i 35 mila euro che è particolarmente solvente ma esattamente in quella zona e la storia ci ha dato ragione che già allora cominciava a scivolare lentamente perché sono questi che devono pagarsi la badante che devono far rifarsi la dentiera al nonno che devono pagare la psicoterapia al figlio psicotico che mi capite? che se incontrano dei problemi della vita e non trovano delle forme nuove rischiano lo scivolamento nella povertà ok non solo povertà materiale torno a dirlo anche povertà relazionale questa però rispetto alla cooperazione sociale abituata a ragionare con molta retorica sui poveri e che i poveri erano sempre quelli che gli diceva che era l'ente pubblico erano poveri e dire adesso lavori per i ricchi no lavoriamo per le famiglie che siamo tutti noi dietro c'è quel ragionamento che vi ho fatto stamattina che tutti prima o poi la fragilità la troviamo ok qualcuno poi magari ricordatevi alla fine ha comunque ritenuto opportuno generare una cosa anche per quelli tra gli zero e gli 8 mila euro perché qui stiamo parlando di domanda solvente e non stiamo parlando di contributi statali perché avanti oh voi leggete intanto vabbè qui avevamo visto abbiamo scelto quella parte alta poi gli ambulatori specialistici e dentisti gli asili nido li avevamo cominciati con Pan e poi una serie di quelle cose sono state fatte attraverso altre società che non hanno usato questo marchio oh siamo indietro ormai per me di 8 anni avanti però queste slide le dovete produrre anche voi avete capito non ve le lascio eh io quindi memorizzate cioè produrre un piano di impresa vedete che prima di parlare di soldi stiamo parlando di altre cose oh come qui ne è puffi è un problema di processo mentale innanzitutto allora li avevamo immaginato delle aperture dirette che poi alla fine invece non abbiamo fatto cioè la società centrale non ha prodotto delle aperture dirette perché abbiamo fatto una raccolta di capitale di soli 4 milioni e mezzo soli e non di 9 milioni come immaginavamo perché è molto sborone capito David Dotti quando era giovane era piuttosto sborone e quindi 4 milioni e mezzo li abbiamo tutti utilizzati per fare partire a leva le cose locali quindi sono andate quasi tutti i franchising avevamo poi come dire l'ipotesi di affigliare altri centri che c'erano già che potevano utilizzare il marchio come avevamo fatto con Pan ad esempio che è un marchio che abbiamo utilizzato anche per ristrutturare l'asili nido che c'erano già non solo per farli da nuovo formatarli renderli più compatibili questa strategia ve la dico già subito l'abbiamo provata ma è stata abbastanza inefficace cioè la maggior parte di cose che c'erano già avevano un atteggiamento un'attitudine molto speculativa quindi in alcuni casi abbiamo ottenuto anche 2-3 anni poi abbiamo risciolto il contratto quindi è andato avanti quasi tutto da nuovo quello che vedete oggi sul sito è tutto nuovo avanti appunto avranno si poteva scegliere il format O O E E o solo il dentista che è fatto in un certo modo o solo il poliambulatorio E E la formula dopo 8 anni ve lo posso dire di tenere insieme il più possibile queste due cose qua il dentista comunque fu identificato come diciamo la leva finanziaria e economica molto importante per sostenere il resto perché già allora dai conti che facevamo noi era un mercato che si sarebbe completamente ristrutturato valeva già 12 miliardi eh solo quel mercato lì fatto i 35 ma in Italia viveva su una poltrona e mezzo ed era assolutamente arricchiva il dentista cioè si faceva la Ferrari diceva fanculo cioè il margine di lavoro su quella cosa era notevole avanti che tipo di come la volevamo cioè che il controllo fosse esplicitamente allora appunto adesso vi userei altre parole comunque di una no profit quindi CGM doveva controllare Welfare Italia che però fosse una no profit sostenibile cioè in grado di generare un utile sufficiente per il rinvestimento perché qui c'è un rinvestimento anche in ricerca c'è un rinvestimento in innovazione doveva esserci un ritorno per eventuale persone che mettevano o società come poi vedremo che mettevano il capitale di ritorno sul medio lungo diciamo tra il 2-2,5% di ritorno di capitale se uno mi metteva un milione di euro tu provvedevi a partire dal quinto anno il fatto che cominciavi a rimunerargli parte di quel capitale lì capite che nel vecchio mondo loro profe queste robe generavano un po' di problemi oggi sono costretti tutti a farle avanti e poi si vede alla fine coinvolgimento degli aggregatori della domanda al capitale welfare Italia cioè la prima fase dell'aggregazione della domanda noi abbiamo immaginato che fosse intermediata a qualcuno abbiamo immaginato i sindacati abbiamo immaginato la rappresentanza degli artigiani abbiamo immaginato alcune associazioni come le ACLI terzo settore cioè alcuni che già implicitamente aggregavano la domanda attraverso i patronati attraverso ok cioè veicolavano non solo se stessi veicolavano già della domanda su questo punto qua guarda che sono molti come dopo mi paghi da solo avanti qui avevamo fatto una ricerca che ho in computer avevamo fatto anche alcune ricerche di mercato oltre che alcune ricerche diciamo analitiche abbiamo fatto due ricerche di mercato vere e proprie per capire se l'idea aveva presa e come vedete gli elementi di maggior interesse alla popolazione presa diciamo per gruppi focus group oppure per telefonaggio tipiche ricerche di mercato era che 60 su 100 erano interessati all'ipotesi che facevamo dell'abbassamento dei prezzi per darvi un'idea poi è stata quella lì mediamente sul dentista al 35% in meno immaginate che quando parliamo di 7-8 mila euro il 35% in meno vuole dire 4-5-5 cioè stiamo parlando di gente che faceva già il mutuo allora se ti capita un bambino con l'apparecchietto facevo già avevamo studiato gli apparecchietti gli apparecchietti avevano un costo di produzione tra i 100 e i 150 euro mediamente venivano venduti tra i 1000 e i 2000 euro cioè lo spazio lo stesso apparecchietto che si produce non dico dove fuori dall'Italia quindi lo spazio per intervenire poi stava intervenendo la tecnologia tutta una serie di cose oh guardate che sono diventato serio parlare di denti perché poi ho scoperto che lavorare bene come dentisti vuol dire facilitare tutta una serie di problemi di postura anticipare una serie di tumori o di possibili tumori cioè è tutta una serie di cose molto interessanti non è diciamo ah eravamo nel periodo dove cominciavano i grandi viaggi da Roma in su cioè gente decine di migliaia di persone che partivano per l'est e si facevano due o tre giorni si facevano i denti là eccetera 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 eh poi rapporto qualità prezzo erano le due cose fondamentali poi vedete però seguono anche gli altri che non sono banali il tipo di organizzazione la sua serietà l'offerta integrata dell'avere più servizi avanti vado un po' così idem qui si ricopre la stessa cosa sì ok guardate qui si vede come prevedevamo la scala diciamo che andiamo molto più lenti perché questa cosa qui si è incastrata nella crisi però mediamente ragioniamo diciamo che ogni luogo di cura si appoggia diciamo su bacini almeno di 100.000 persone l'ideale a distanza di 8 anni adesso io non li seguo più da 3 anni direttamente però insomma è di stare su bacini di 250.000 persone cioè un luogo di cura su un bacino stiamo passando molto di territoriale quindi è abbastanza improbabile che queste cose vedano il viaggio di qualcuno da molto lontano è qualcosa di molto prossimo legato ai medici di base ok siamo comunque diciamo a regime tra i 700.000 e il milione e mezzo di euro a luogo di cura che stiamo parlando di patatine ok stiamo parlando diciamo tra le 12.000 e le 20.000 visite all'anno qui si vede il risparmio progressivo comunque mettete che adesso dovremmo essere arrivati già dove che siamo dovremmo già essere diciamo al quinto anno che cos'è il 99 che sta qui 2009 vedo 2004 dovremmo essere al 93 siamo invece tra i 30 tra i 9 insomma tra i 40 e i 57 ok va più piano non ancora ha chiuso nessuno qualcuno è già arrivato al suo Berchiven qualcuno vive le sue difficoltà anzi sarebbe interessante che poi magari vi dico ve le andate anche a vedere e parlate con le persone perché secondo me in prospettiva voi avete abbastanza diciamo forse la capacità di fare una cosa così dovete usare un po' eh cazzo capito qui ci sono anche tanti psicologi che lavorano avanti qui si forma diciamo questo qui è il business plan che era previsto allora poi l'abbiamo rivisto tante volte diciamo per la corporate centrale poi ogni luogo di cura ha il suo business plan come vedete l'investimento questo andava in perdita cinque anni praticamente e comincia ad andare inutile dovrebbe cominciare ad andare inutile l'anno prossimo il sesto anno 2016 e vedete che 4 milioni e mezzo non erano quasi neanche sufficienti infatti poi abbiamo dovuto ancora limare quella cosa lì sono quel 1386 a un milione 386 perché erano tutti i soldi dell'investimento stiamo parlando della corporate non di ogni centro ogni centro avanti brecchimano al quinto anno avanti sì vabbè qui si vede lo stato patrimoniale saltalo queste sono cose che dovete produrre anche voi però si vedono gli investimenti avanti saltalo fammi vedere finanziario saltano i flussi di cassa non c'è qui la vostra collega vabbè avanti comunque c'è un ragionamento in natura finanziaria qui si vede diciamo io le chiamo sempre le prove di Aristotele del principio di non contraddizione io credo che le imprese si fanno sostanzialmente per un sogno non per dei principi di razionalità il principio di razionalità serve a misurare se il sogno è totalmente insensato questo può dire non è in grado di dirti sì il principio di razionalità è in grado di dirti no mi capite? il sì è sempre dato dal desiderio dal cuore dalla visione il principio di razionalità che sono tutte queste attività che si fanno analitica di ricerca ti dice no ma cazzo sei fuori totalmente di melone perché non eravamo fuori di melone? qua lo si vede molto bene allora in Italia la spesa sanitaria privata è prevista in crescita allora attualmente nel 2005 era dove che è? eccola lì esatto quella lì allora il 6,8 del PIL era il 2,1 del PIL per darvi un'idea il PIL italiano è come si dice 1900 trilioni di euro ok? quindi il 6,8 vuol dire che si spendevano quanto? 130 miliardi 140 miliardi per darvi un'idea 130 miliardi di pubblico e una trentina di miliardi di privato ok? 8,9 nel 2050 guardate come sale perché quel meccanismo prestazionale dei bisogni che vi dicevo guardate dove va però se guardate la comparazione con gli altri è molto simile tutti hanno dentro una certa cifra e tende ad allargarsi poi quella parte privata come si spacchetta è cash passa dalle assicurazioni sarà una mutua questo dipende dalle scelte collettive starà dentro come succede poi nel welfare aziendale integrativo cosa che ormai hanno tantissimi considerate che queste sono analisi che abbiamo fatto nove anni fa infatti io sono fiero di noi avanti tuff ah qui si vede una cosa pazzesca guardate questo qui si vede quanto di quella privata quel 2,1 di quei 35 miliardi e qui c'è l'esempio che facevo della vostra amica bussa il coso lasciali 200 euro guardate in Italia auto pocket cioè in contanti questa è credo 2006 quanto andava impressionante cioè fatto 100 cioè adesso avrà superato anche 40 miliardi più dell'80% in Italia andava pagato no non ogni privato pagato cash questo è 100 è tutto privato questo vuol dire che il ragionamento che volevamo fare sul mutualistico cioè immaginare delle formule non che lui dà 10 io do 10 da ognuno per conto suo ma insieme generiamo uno spazio per cui mutualmente se andiamo in difficoltà stabiliamo chi può andare c'è un grande spazio ma infatti se voi andate a vedere cosa è successo dal 2007 a oggi guardate quanto le assicurazioni si sono allargate sulle assicurazioni vita e sanitarie guardate quanti contratti integrativi aziendali o nazionali hanno dentro ormai il welfare sanitario moltissimi stiamo parlando di 12 13 miliardi di euro in più e quanto stanno venendo fuori anche tutte tesserine e quanto su quella cosa si è sviluppata l'offerta quella dentistica è pazzesca ci sono ormai 4 multinazionali che si muovono in Italia vital dent mental care dental six che sono tutte tra le spagnole tutte legate a banche e una olandese che si chiama medi dent non mi ricordo più comunque stiamo parlando di robe hard e adesso sono partiti anche tutta la parte dei poleambulatori e anche questo guardate che non è solo legato a che l'ente pubblico non è effice no no le ASL non hanno da investire su questa cosa perché sono molto inchiodate sulla grande tecnologia e sui farmaci capite l'85% va lì quindi è un po' impossibile che si muova il resto quindi lo spazio c'era no? anche sulla domanda ok? guardate va bene gli Stati Uniti perché è ribaltato ma guardate la Germania o la Francia come i sistemi assicurativi e i fondi mutui occupano uno spazio significativo quindi non solo si poteva lavorare sull'offerta i luoghi di cura con le prese ma si poteva lavorare anche sulla domanda stai capendo Maxi? no faccio la prova vai vai va beh qui si vedeva specialistica come si spacchetta allora tenete conto che raccogliere tutti questi dati è faticoso sì ma virgola dovete farlo anche voi eh lo farete sulla Puglia e su Taranto ma dovete recuperare i dati i dati fissi i dati di tendenza perché la prova del 9 la dovete fare poi sarà il cuore che spinge ma avete bisogno di dire ok ci possiamo appoggiare ci sono due disabili a Taranto o ce ne sono 450 età media eh bassa o età media alta che vuol dire flessibilità e cognitiva eh diciamo e anche sentimentale delle famiglie cioè vuol dire tutta una serie di problemi beh qui si vedeva molto bene il 92% di chi faceva di chi fa visite odontoiatriche va al privato inimmaginabile riassorbimento nel ente pubblico si vede il 45% e guardate che questi dati sono saliti ulteriormente qui siamo indietro di 7 anni io poi non mi sono fatto dare dai miei colleghi i dati nuovi ma non il 45% l'oculistica il 50% la ginecologia il 64% cioè le donne al ginecologo ma se lo facessi qua viene foglio stesso lo meccanismo non vanno all'aso vanno dal loro ginecologo privato l'orino l'otorino ringoiatra la dermatologia la psichiatria e la psicologia la dietologia quindi questo ci dava anche allora le leve concrete mi chiedevi dei soldi come si si ragiona com'è che faccio a stare più vicino alle famiglie io all'inizio avrei mai pensato al dentista e poi si sceglie anche una cosa che ti permette di stargli vicino attraverso un campo che anche è liquido che ha soldi avanti vabbè qui allora si sceglie interamente dei bilanci delle famiglie qui abbiamo verificato allora che cosa chiedevano al dentista che avanti avanti gira che se no andiamo troppo lenti qui abbiamo provato a a dividere ciò che era coperto dai lea ma che era come dire si stava sgretolando infatti ormai non è più coperto quasi nulla ad esempio c'è aperto tutto un ramo sul sul recupero fisiatrico fisioterapeutico secondo me voi dovete ragionare anche su quel versante lì capito solo con il vostro pezzettino non ce la farete mai chiaro a tirar fuori degli stipendi non c'è niente a fare se immaginate invece che quella competenza lì sta insieme ad altre cose e fa un ragionamento sia dal punto di vista del popolo che dal punto di vista dell'offerta e dei servizi più largo allora quel che fate è molto interessante questo come questo è il primo vabbè qui si è fatto tutto insomma leggete non fatemi leggere siete bravi gira avanti sui prezzi allora il ragionamento quel che vi dicevo anche questo fu molto importante trovare un punto di equilibrio era il 35% in media dei prezzi dentistici e avevamo stabilito allora che una visita da noi per essere su tutte donne ginecologica costava 60 euro fatturate chiaro? fatturate no? busterellina e via capito? su questo abbiamo abbastanza tenuto abbiamo immaginato anche una psicoterapia a costi più bassi immaginando che potesse tenere oggi infatti mediamente da noi vai tra i 35 e i 40 fatturati non in nero no perché ve lo dico perché poi dall'altra parte la famiglia quelli li scarica fino a 2500 euro capito? cioè oppure abbiamo cominciato a costruire poi i pacchetti dove c'ha il prelievo per la nonna il dentista per il bambino la psicoterapia per il cugino e no anche questa è aggregazione della domanda capite? è che come la tua roba ti prendo la bolletta dell'Enel e ma poi andando avanti le cose poi qualcuno a un certo punto è venuto anche l'asla adesso non c'è qui il vostro amico dell'asla e dire cazzo però interessante non sei andato a cercare cioè vabbè allora quel pezzo che noi proprio non riusciamo per nulla a fare mi curi è la neuropsichiatria infantile cioè vabbè vediamo capiamoci ribaltato è il gioco se cosa facciamo domani che cosa fate voi continua a fare andare no ripeto non voglio farvi copiare questo non è questo il punto è capire però quando tu processi una cosa perché poi è chiaro che quando vai lì alla reception è chiaro che poi la cooperativa insieme ad altre che gestisce c'è anche gli asili nido c'è anche la comunità alloggio c'è anche la comunità psichiatrica c'è anche il rapporto con quell'agri asilo c'è l'ago cioè tu sei un punto e ve la dico in termini sociologesi sei un'istituzione di comunità capito? avanti qui veniva da una valutazione che avevamo fatto sempre con tra l'altro il nome welfare italia l'abbiamo trovato con un amico che è lo stesso che trovo il nome di slow food con carlin petrini e poi andai a trovare petrini nel 2004 perché a me slow food aiutò molto a ragionare in termini questo vuoi dire che sono un testista ma mi interessava il tipo di processo di valorizzazione del marchio capito? attraverso che cosa girava la girava attraverso il legame con la terra il legame con le cose sane buone qui gira attraverso il legame umano e attraverso il legame con quel territorio lì ok? avanti vabbè qui si vede che cosa è più richiesto che cosa è meno richiesto si fanno dei lavori reali allora i prossimi soldi che andate in giro a cercare andate in giro a cercarli per costruirvi un reale piano di impresa chiaro? vero non con un commercialista del cazzo o uno che vende a vendere due slide vero perché avete già in testa la visione e dice oh io adesso voglio vedere se questa cosa tiene allora avrei bisogno di andare a cercare i dati statici che siano l'Istat il census la regione mio nonno avrei bisogno di fare delle interviste guidate avrei bisogno di costruire un pilota ci abbiamo messo un anno e mezzo noi a fare sto lavoro anche ci abbiamo messo due giorni capito? avanti è qui la stessa cosa vedi l'orario di apertura rapporto qualità prezzo distanza dalla casa vabbè non sto a menarvela avanti 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 ok come funzionava il sistema di offerta? super giù l'idea centrale era ma che esperienza fa vedi qui lo chiamavo ancora cliente oggi non lo chiamerei più neanche così la persona che viene da noi ok che tipo di caratteristiche ha l'offerta? quali sono i servizi? qual è il tipo di modello operativo? avanti qui girava faceva vedere che tipo di attesa quindi che tipo di servizio perché si vedeva ad esempio che cosa succedeva tra pubblico e brigato il pubblico ha molta reputazione però ha un tipo di servizio non di prestazione medica il servizio non è la prestazione il servizio è fatto dal momento che parcheggi a quando entri dentro a come ti tratta la signora a che tipo di di caramella mangi adesso scusate le banalità invece posso dirlo in termini la prestazione è appunto il martellino la gente considerava molto buona la prestazione e molto scarso il servizio nel privato invece a volte succedeva esattamente il contrario ok molto più quindi bisognava trovare un punto di equilibrio e qui fu fatto tutto un lavoro tra i prezzi la qualità della prestazione la qualità dei locali l'accoglienza cioè qui si entra anche nelle cose molto meno filosofiche di quello che ho detto prima ripeto queste cose senza le cose che vi ho detto prima ma no le fa vita il dente capito fate concorrenza la d'urso con i denti da pantera leopardesca avanti dai stessa roba poi gli ambulatori ci sono i prezzi c'è il tipo di distintività il fatto che potevi trovare più specialisti ad esempio nello stesso punto il fatto che hai una cartella che gli specialisti gesticciano tra di loro il fatto che andando dal dentista se si accorge che è un problema di postura lo segnala è un valore pazzesco che andare solo da quello col martelletto hai capito questo però voleva dire una contrattazione con i medici che fosse disponibile staccare due ore gratuite ogni mese per fare un momento assieme offrirgli un software questo è oltre lo psicologo oltre il pedagogista oltre il medico per fare questo avete bisogno anche di gente che ne sa di organizzazione ok abbiamo fatto un concorso nazionale con gli architetti per immaginare il format adesso non mi ricordo se si vede vai vabbè qui si è vista la diversità dei centri siamo andati prevalentemente poi tra l'altro abbiamo molto puntato nel tempo comunque perché c'era un problema di affidabilità anche se ha determinato molta più lentezza sulle cooperative consorzi di CGM cioè che erano soli dell'azionista di riferimento perché questo ha dato più stabilità tenete conto che poi localmente vuol dire 300-350 mila euro di investimento cioè se aprite a Taranto dovete trovarvi 350 mila euro di investimento che poi vanno ammortati in bilancio perché c'è tutto il pezzo dei locali dell'arredamento della comprare le strutture del primo cash flow all'inizio cioè ad esempio se lo rifacessi poi troverei alcune formule più leggere magari arrivano l'intro a 4 anni ma parti da nuclei però poi vi cazzate uno fa una vita che non lo fate avanti no vedi infatti qui chi si c'è prevalentemente i consorzi CGM alcuni medici e dentisti privati alcuni imprenditori privati poi però abbiamo aggiunto quindi ci aspettavamo che i tre quarti che ci fosse molto interesse da parte di consorzioni cooperative sufficientemente interesse a dentisti e medici e un parziale interesse a imprenditori privati devo dire che questa è abbastanza confermata così devo dire che molti dicevano ma no non verrà lì nessuno invece non è vero quello appena laureato che non ha i soldi al papà per aprire lo studio quell'altro invece che magari è molto sull'edità si è rotto le balle dei soliti trantram è molto interessato a fare da maestro cioè nel complesso stiamo parlando ormai di migliaia di medici coinvolti in questa cosa piccolina perché sono 30 centri immaginate che su ogni centro possono girare dai 40 alle 80 figure professionali e fate la svelta a raggiungere numeri significativi si ah beh queste cose devono produrre utili non lavorano per gli utili ma devono produrre gli utili sufficienti e necessari per fare gli investimenti e in alcuni casi per remunerare un po' di capitale non te lo remunero al 10% al 20% ti dico fai una cosa socialmente anche tu intelligente te lo remunero al 2,5% ma guardate che ad esempio durante la crisi il 2,5% è tantissima roba capito? cioè tu mi dai 100.000 euro ok? io quando te lo ritorno te ne ritorno 102.500 no? 125.000 102.500 però qui c'è anche tutta una motivazione uno è interessato a fare una cosa che dovete andare a bussare anche lì capito? bussate bussate nel Vangelo c'è scritto bussate vi sarà dato bussate se qualcuno vi chiude ogni tanto offritegli un caffè vedete che vi aprono avanti ecco andare con una cosa così da una banca o da una cosa così da un imprenditore o da una cosa così ha un altro peso capite? ma non perché è estetica perché c'è dentro uno sforzo anche di pensiero qui avevamo previsto le chi apriva e chi no diciamo che le confermo al 50% cioè la crisi l'abbiamo vista anche noi dovevamo essere diciamo a una quarantina che poi sarebbero un'ottantina perché ormai sono tutti doppi odontoiatri che erano previsti 130 centri nei primi 5 anni 60 dentisti 60 poliambulatori 70 dentisti sostanzialmente quasi tutti tranne uno o due hanno fatto le due cose assieme quindi quelli che ci sono oggi sono circa una sessantina tra quelli a marchio diretto e quelli che hanno fatto un pochino i furbi però io per la società sono comunque contento c'è nel senso che a me interessavano le famiglie l'obiettivo famiglia è in qualche modo realizzato anche se è quello che si è chiamato il gnomo nero piuttosto che il cigno arancione avanti è qui dove fare le aperture vabbè vai avanti le tipologie dei servizi che si offrivano a chi li apriva dalle forme di aggregazione alla domanda gli accordi con i fornitori finanziamenti agevolati al tipo di format che è esattamente un manuale di franchise al supporto gestionale queste a voi volete aprire a Taranto la società corporate a fronte del uno e mezzo o uno di percentuale sul fatturato non so quanto sono arrivati adesso insomma della royalties che vi chiede vi offre questo tipo di cose ma non sono qua a fare il marketing di welfare per voi è presto non è il tempo avanti poi abbiamo avuto anche un call center vabbè qui c'è tutto come poteva funzionare il pagamento le prenotazioni via internet vabbè c'è tutta una serie di menate se pensate io sono partito facendo assistente educatore nelle scuole disabili nell'85 si può fare di tutto e di più avanti il pagamento avviene o tra oggi avviene attraverso tante cose carta di credito bancomat bonifico attraverso internet qualcuno è aggregato ormai a delle mutue attraverso forme di convenzione con le aziende paga l'azienda almeno 7-8 quindi anche voi arriva in un punto preciso cioè in un arriva a Taranto certo vengono pagati localmente i soldi non arrivano su la corporate centrale ha le royalties sui fatturati che fanno come funziona il franchise di McDonald's di Calzedonia piuttosto che di li abbiamo copiato ad esempio sono andato molto a copiare anche come fanno questi sì dopo noi l'abbiamo reso sociale perché noi abbiamo che quelli sotto sono proprietari della corporate sopra cioè te la corporate serve per fare massa critica non per speculare capito? perché gli azionisti sotto le cooperative sociali gli artigiani le ba sono gli stessi azionisti sopra o quasi capito? sì sì no ho avuto anche un'architettura intelligente un lavoro solo sullo statuto notevole eh vai eh vedi come no vabbè la struttura organizzativa centrale non ve ne frega passala passala è come funzioniamo chi è la comunicazione il marketing vai vai vediamo qui cosa c'è no questo era previsto la proprietà aspetta fammi vedere un attimo no fai quella dopo no volevo vedere è questo il contro no no fermati questo è no fammi vedere ah sì è quella di prima sì break even quella di prima no pensavo mi scuso non ho dentro quella di un centro locale per dirvi oggi il centro che fattura di più è uno a Milano in via Solari che credo sia vicino al milione e otto quello che fattura di meno in questo momento sta a Cireale perché abbiamo fatto con la cooperativa la Caritas il dentista che credo sia intorno ai 150 mila euro adesso non ve la dico in modo molto però anche qui non conta la massa in generale conta quella cosa lì che cosa ha dentro con tutti i rapporti che cosa fai fine mi aspetto una cosa simile cioè dovete produrre una cosa simile ma non affidarla a qualcuno che la faccia lui partecipare insieme alla costruzione di un business plan così che ha una sua visione all'inizio poi si riducono i slide lasciate perdere l'americanata sono utili poi per andare nel mondo capito? cioè se andrete a banca intesa piuttosto che ci andate con una cosa conta capito? ho l'idea un foglietto di carta e mio nonno tenete conto che questo è un estratto di un lavoro di almeno 2000 pagine cioè dietro c'è stato veramente tanto lavoro allora so che questa domanda può sembrare cinica no non cinica ma un po' pessimista però questo lavoro è stato fatto otto anni fa adesso ancora di più sì assolutamente ma perché io pensavo al lavoro che abbiamo fatto noi nel quartiere quando Mariangela andava nei negozi nei bar per lasciare un tagliandino la prima cosa che dicevano non abbiamo soldi cioè non capivano cioè noi entravamo solo per dire no vi stiamo rendendo comunque parte di qualcosa che non conoscete anche voi potete dare il vostro contributo che era un contributo etico solo quello volevamo c'è proprio una resistenza sì sì se mi chiedi ti dico di sì dall'altra parte come dire dall'altra parte il fosso è la il fosso è ancora più grande cioè se nessuno mette giù una barchetta in quel fosso lì il fosso si farà sempre più grande però l'idea che avete avuto fino adesso non basta per attraversare quel fosso è chiaro necessaria ma non sufficiente questa è la cosa che alla fine del giornato io mi sento tranquillo a dirvi state facendo delle cose nella direzione giusta non sono sufficienti ad esempio il fatto che avete solo i genitori che vi pagano per 20 ragazzi anche se raddoppierete i ragazzi raddoppiate non basta oggettivamente non basta allora lì lì c'è un ragionamento da fare sulla domanda la domanda la domanda che vi faccio è siete sicuri che l'unico gruppo popolazione che avete individuato è quello dei disabili dei disabili intellettuali o cognitivo emotivo affettivi siete sicuri ma non basta ad esempio questo non basta noi siamo competenti per lavorare con sì non state in piedi oppure se volete questo allora avete bisogno di un 50% andate a cercare cioè fate una proposta stronza al comune di noi ti gestiamo al 30% in meno le stesse cose che tu gestisci cioè dovete allora fare gli stronzi siete in grado di fargli una proposta per tagliargli i costi al 30% seguendo gli stessi ragazzi allo stesso tempo anche di più sì va bene siete disponibili ad andare in competizione sapendo che altri perderanno il lavoro che poi stiamo parlando di queste robe qui purtroppo per me potete rispondere anche di sì cioè se volete cioè è la stessa cosa che vi ho detto prima dell'Albania cioè ci sono delle delle condizioni che bisogna in qualche modo porsi cioè perché ad esempio voi non fate nulla che riguarda i disabili fisici e che riguarda la fisioterapia la fisioterapia rende di più figlioli integra quel che fate voi perché non immaginate di andare siete mai andati alle aziende le aziende ormai piccole o grandi che siano del commercio hanno qualcosa che si chiama fondo sanitario integrativo quel fondo sanitario integrativo ha dentro delle prestazioni vi siete mai proposti voi per quelle prestazioni dei figli dei disabili che cazzo ne so io so cosa c'è qui vicino nella Montedison cioè dobbiamo muoversi da questo punto di vista il pezzo integrazione del pubblico è importante sì ma certo cercatelo dovete capire che cosa è però non mi sta no non ci capiamo cioè perseguire i ragazzini disabili che vi piacciono così tanto va bene perseguire per aiutare le famiglie che mi piacevano così tanto io ho dovuto interessarmi anche dei dentisti va bene io mica ci pensavo i dentisti il mio obiettivo era le famiglie e dopo di che sono andato a beccare anche il dentista mi capito o no cioè se rimanete un po' psicotici invece lì sul vostro pezzetto secondo me da tre anni siete tutte disoccupate e fine dalla fiera cioè io non ce l'ho tutte le idee non ho anche voglia di averle tutte domani mattina poi andremo un pochino avanti cioè però dovete fare uno sforzo di più non basta il mandato che vi ha dato il vostro papà maggiorenne quando vi ha mandato andate in mezzo ai lupi bene vi ha raccontato alcune cose l'ho anche ascoltato quelle idee lì vanno bene fino al 20% dovete produrre l'altro 80% lui appartiene al 900 totalmente sanamente ha fatto delle cose probabilmente bellissime non è in grado assolutamente di fare qualcosa che stia in piedi economicamente nel terzo millennio lui anche perché lui il lavoro fisso ce l'ha e quindi le idee non è in grado di svilupparle infatti ti si blocca il cervello capito cioè ti restano delle fantasie ma le idee si applicano quando si ha fame se no l'idea non prende mai forma se non si ha fame non c'è motivazione ma è così ma è per quello che la crisi aiuterà la crisi aiuterà cioè lui potrà benedirvi aiutarvi accompagnarli non può più indirizzarvi ha già fatto tanto secondo me poi glielo dirò dopo l'ottanta che manca non è assolutamente in grado di farlo perché vi comincerà a dire ma fate concorrenza all'ASL e sì e noi in un certo punto faremo concorrenza all'ASL dovete dirgli esatto credo che questo sia un problema poi alla fine cioè il fare la concorrenza all'ASL perché poi alla fine si tratta di una concorrenza ma c'è un problema di status capito qui non è nessun problema economico è un problema di potere è un problema di è un territorio particolare questo come quello di Bari come quello di Brindisi è così l'ho spiegato prima che la sanità ad esempio è chiaro che i politici fanno una fatica la madonna a mollarla perché la sanità è legata all'80% dei budget regionali e l'80% degli interessi distribuiti dalle regioni capito sia una rifondazione comunista o sia Salvini della Lega nulla cambia perché da lì passa il consenso il controllo del potere è talmente evidente che però si è visto è sempre più marginale perché all'espansione non corrisponde la capacità volevo capire giusto per vedere se ho capito questa cosa ad esempio la Vurbeck la Folletto offre per ogni dipendente dei servizi alla famiglia certo quindi dentista molte aziende stanno facendo così sì 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 il contratto dei metalmeccarici la FIM ha al proprio interno 30 euro per operario che può spendere ogni tanto cioè ogni anno per qualcosa se ti andate a incontrare la FIMCIS lo vuoi qua? no bene il contratto dei panettieri all'interno 60 euro per ogni panettieri all'anno da spendere dentro il fondo sanitario integrativo se ti andate a incontrare i panettieri è male perché non l'avete studiato prima mi manca quel pezzo lì prima ma la stessa cosa vale avete analizzato a fondo il servizio pubblico per capire dove infilarvi capito? noi ci siamo infilati il dentista 92% noi per scelta io e i miei avevo chiesto un periodo di castità totale dei soldi pubblici perché avevo un problema di partenza delle cooperative sociali che si erano diciamo morfinizzate con il denaro pubblico voi non mi sembrate morfinizzate siete un po' ogni tanto nostalgiche della seconda guerra mondiale che vi ha raccontato i nonni diciamo però vi guardate indietro però non avendo questa morfinizzazione in corso diciamo l'ha desiderato ogni tanto la morfina è giusto che prendi si si va bene ma lascia aperto tanto si distrugge si distrugge tutto sta serena tra dieci anni questo che vedi attorno a te non ci sarà più ma qui viene giù un mondo cioè quindi bene analizzate molto bene dove sono i pertugi dentro la pubblica amministrazione e fateli delle proposte ad hoc capito ricordatevi che combatterete una battaglia cioè questa roba non va là tranquilla darete fastidio a qualcuno si muoveranno le invidie qualcuno comincerà a dire brutte streghe bastarde maledette gazzo volete da noi vabbè voi serene sulla vostra via è per quello che diversificare ad esempio economicamente è importante bene siete partite le famiglie con un livello diciamo da cliente pagatore provate a vedere se qualcuno di loro diventa un azionista uso dei metafori di questa roba provate a vedere se qualcuno di loro è anche interessato a coinvolgersi ma che magari conosce diventa qualcuno che vi fa tecnicamente cross-selling su qualche di un altro perché conosce il direttore le banche qui davanti avete intesa San Paolo tutta l'intesa ha il fondo sanitario integrativo siete mai andate dentro a chiedere è male perché anche voi un po' malate della vostra micro mignon oh adesso questo è difficile però vabbè volete cose serie voi no è vero cioè noi non siamo mai andati in una banca perché l'idea è ma tanto ci diranno di no ma vi ho spiegato prima che ormai le rigidità di ruolo fornitore cliente lavoratore capitalista azionista shareholder non sono più così poi detto questo non è che andate in banca vi apriranno una fanfara cioè io per trovare le prime due banche e per trovare quattro cioè è stata dura certo avevo 45 anni avevo un po' di esperienza mi hanno fatto conoscere bene non bastate voi fatevi accompagnare da qualche di un altro alleatevi uso una parola importante alleatevi con qualcuno ci sono probabilmente dei piani di azione che sono legati anche alla qualità delle alleanze che sarete in grado di costruire in quell'alleanza voi metterete il vostro pezzetto quell'altro x y z è una cooperativa è un'associazione una persona singola un imprenditore è un pezzo di pubblico alleatevi cioè fate voi quello che rimproverate alla città se rimproverate alla città di essere individualista egoista bene voi continuate a muovervi invece per aprirla per aprirla e non dimostratevi potenti dimostratevi fragili perché siete fragili ma non siete stupide cioè consapevoli del vostro limite se ci arrivate avendo anche un po' studiato avendo provato a dargli un pochino forma eh ma sono tutti idioti in giro no ma ve lo dico cioè questo ve lo dico a me è successo così se state ad aspettare che evolva quello che avete impostato forse una di voi tra cinque anni lavora non ho capito dal bisogno di una famiglia che bisogna una famiglia le diceva dentista no una famiglia ha tanti bisogni io per esempio diventerò anziana fra dieci quindi c'è o un cagnolino voglio continuare a tenere questo cagnolino però voglio che qualcuno me lo porti giù voglio fare dei viaggi nel mio limite allora anche questo offrire dei pacchetti no e andare cioè partire proprio io la mia famiglia se qui ci fosse una persona disabile quali problemi avrebbe e come io posso cercare di andare incontro a queste problematiche e quindi proprio mettersi con la carta e scrivere quali sono i bisogni di questa famiglia e quello dobbiamo proporre è chiaro che per proporlo poi dobbiamo fare tutto quello che ha detto proprio dall'ABC io sono abbastanza diciamo sicuro che dovete rimanere giustamente focalizzate su quello che vi interessa e cui siete in grado di però è come se dovete costruire una casa e siete degli idraulici ecco faccio quell'esempio lì avete bisogno dell'elettricista cioè non potete solo moltiplicare il tubo dell'idraulico dovete fare la casa siete utili per fare la casa cioè per il benessere dei disabili siete utili il mio suggerimento è sì siete come gli idraulici però per una casa non bastate non so se mi capite e questo per me è molto importante no? allora vi dicevo perché ad esempio lui diceva a noi interessa abilitare l'autonomia cioè questa è tutta l'ideologia che avevamo negli anni 80 sì il problema oggi è che ok ma dove andrà a vivere la morte dei genitori l'avrei cazzo abilitato anche l'autonomia ma cioè quando gli hanno staccato la spina ai genitori quello lì è merda eh andrà nella casa i genitori bene allora vuol dire che avrete già costruito le condizioni e voi sarete i tutori per conto suo allora avete fatto un processo amministrativo per cui l'associazione comunità diventa tutore amministrativo dei disabili a Taranto e quindi si intesta il patrimonio quando mori i genitori eh sì figlioli se no se no è ideologia purissima gli ho insegnato a spendere certo che occorre un avvocato gli ho insegnato a spendere il denaro beh va capito ma per comprare che cosa? forse il giornale al papà ogni tanto ma poi la spesa la fa la mamma mica si interessa dell'olio ma perché? perché non cucina mai a casa è difficile che la mamma lo faccia cucinare adesso ma perché siete rivoluzionarie ma non aspettatevi cioè nelle dinamiche familiari come sapete bene a psicologi si compensa e meno male che le famiglie compensano cosa devono fare già si ritrovano con situazioni complicate cioè poi mica chiedere a un papà e una mamma che già hanno una ferita di ballare tutte le volte nella cucaraccia cioè compensano affettivamente ma cazzo devono fare e vi serve un avvocato certo per studiare un trust adesso io non lo dirò alle famiglie stasera ma voi dovete immaginare un trust in cui entrano i patrimoni e le famiglie che lasciano di dentro sono garantite da un garante che sarà anche il giudice tutelare che voi quattro stronze a un certo punto non rubate i soldi e scappate in America ma siete in grado voi di sostituire i loro parenti perché questo è il punto perché a loro mancano i parenti ormai non ci sono più i parenti che si sarebbero come dire accollati questa è per me la vita nel frattempo fate fare a questi ragazzi due mesi di vita comune magari vi inventate anche un rito iniziatico questi mesi di vita comune possono diventare adesso se non pagate le famiglie se non possono diciamolo così ma possono diventare una cosa che chiediamo alla comunità di sostenere due mesi di vita di quattro ragazzi che stanno provando un'attività di autonomia vera non so se mi capite oppure la faccio al contrario se attiverete un'assistenza per qualche ragazzo che intanto ha vissuto da solo quell'assistenza la potete fare anche all'anziano della porta accanto perché no perché una cucina non può essere in comune una lavanderia non può essere in comune un trasporto non può essere in comune un'infermiera non può essere in comune vi riguarda questo secondo me sì cioè da una parte c'è un problema di come dire completare le competenze adesso usando sempre la metafora della casa se voi siete gli idraulici diciamo che voi siete gli architetti va bene ve la do architetti tra l'altro l'architetto una volta che ha disegnato c'è bisogno di un muratore un capocantiere un ingegnere c'è bisogno di un idraulico c'è bisogno di tante cose un piastrellista capito due marò uno che dipinge cioè troppi psicologi chiaro? diversificare competenze alleanze con più competenze dall'altra parte un'alleanza con un pezzo di popolo no? con un pezzo di sfiga scegliete il pezzo di popolo che riconosce quella sfiga come anche propria mi capite? cioè da questo punto di vista io adesso ve la dico in termini scusate religiosi c'è una frase di Gesù bellissima nel Vangelo che dice la pietra scartata è diventata testata d'angolo questa frase tradotta in termini sociali vuol dire che noi non dobbiamo mica costruire magazzini di pietre scartate eh dobbiamo immaginare che le relazioni con le pietre scartate siamo così bravi a essere creativi da farle di testata d'angolo vuol dire dove costruisci sopra un palazzo eh la domanda è che cosa avete imparato voi stando con questi ragazzi qui eh non cosa ha imparato loro da voi eh cos'è che avete imparato che può essere utile a tutti capite? beh ad esempio torno a dirvelo prima convivere serenamente con la propria fragilità oggi è un valore pazzesco pazzesco essere in grado di reggere con tre competenze in una società complessa e cavandola è un valore pazzesco perché questa diminuzione in termini di potere ci tocca a tutti vivendo a lungo no appunto la signora non può più portare giù il cagnolino o si impica o quella sua fragilità cercherà aiuto perché la fragilità porta alla solidarietà non è la potenza che porta alla solidarietà oppure sta rimarrà incazzata col mondo e impicherà il cagnolino e voi siete capaci di lì in mezzo tra lei che si impica e impica il cagnolino di metterci in mezzo qualcosa beh beh sì ma sono partito stamattina infatti parlando di nuove forme di convivenza e allora partirete da lì io sono partito all'assistenza domiciliare ai disabili nell'85 per arrivare ai dentisti nel 2005 vent'anni dopo un po' lento guardate voi siete più bravi più giovani e non è che non si fa più l'assistenza domiciliare non è che vi dico non fate più la psicoterapia non fate più la vostra cosa specifica dico che però quella cosa lì la inserite in un disegno più grande no mi guardate un po' da ho detto che forse vi sareste arrabbiate alla fine però avete i morosi che vi consolano io che non ho un ruolo consolatorio cioè siccome quella crisi che stiamo vivendo sta cambiando non solo le forme economiche intese come consumo dicevo prima ma le forme di convivenza le aspettative cioè per dire collaterare a questa impresa potete farne un'altra no in fondo voi state cercando di tenere in circolo degli scarti di produzione usciti male tecnicamente parlando mettete costruitevi un bel outlet dove mettete in circolo gli oggetti scartati e quell'altre lo fate gestire dai disabili e lì dentro ci costruisete anche dei laboratori per riaggiustare i frigoriferi riaggiustate anche le cose ne so però te è bello dopo mi devi pagare sette fatture in un colpo solo c'è un mercato un mercato pazzesco su quel versante lì perché tutti pensano di aggiungere cose vi potrei far vedere un sacco di analisi mondiali dove è chiaro che noi le cose vivranno di più ad esempio in futuro per forza perché non potremo più fare l'usegetta che abbiamo fatto in maniera vorticosa in ultimi 30 dureranno di più allora vuol dire che si riaggiusteranno le cose sull'aggiustare potete costruire un'altra alleanza con gli artigiani ad esempio perché non vi portate dietro qualche artigiano in pensione che sistemava le scarpe e costruite i laboratori veri e non delle scarpe di minchia e i ragazzi devono fare cose vere non finte assolutamente sulla terra mi manda però devi dargli e sennò si incazza l'uomo oggi costa veramente tanto far fare questo lavoro chi ha il trullo con una terra il giardino il giardino giù non voglio dire potare gli alberi che è una cosa un po' pericolosa si deve tenere in mano una sega anche se non è elettrica però pulire le erbacce da intorno agli alberi molti lo vorranno questo e questi ragazzi io penso che sono proprio in grado di fare perché la manualità è molto importante per loro ecco però ad esempio vedi lei giustamente le domani sono cose già molto concrete ma il punto è là nella vostra cosa che ho visto su all'associazione ci sono scritte delle cose quelle cose lì sono molto legate alla vostra professione oggi io vi sto cercando di dirvi usando la visione di prima quelle cose lì fatele diventare reali reali concrete stabili durature nel tempo sostenibili nella vita dei ragazzi non nel tempo specialistico che spendono con voi e quando fanno il mandato che gli date a voi cioè il tema è te non ci sei più domani mattina io sono davvero autonomo cioè ho costruito delle multidipendenze per un disabile l'autonomia di un disabile è la multidipendenza cioè mi sono costruito una rete in cui sono in grado di spendere le tre cose che so fare perché le altre le vivo insieme ad altre sette persone l'autonomia assoluta per un disabile è una cagata è una cagata per il Johnny ve lo dicevo prima io sono un tu io lì sono diventato ormai buddista penso dire quello che non c'è quindi forse l'ultimo momento prima di morire compare l'io non lo so l'esperienza che fai è dentro il tu cioè per quello che vi parlo poi anche di case di case reali di lavoro reale reale non laboratoriale perché se no fate a un livello più evoluto più attento più verificato quello che fanno gli altri colleghi loro l'hanno come dire mortificato mummificato dentro un processo di lavoro che è anche professionalmente scadente per dirla in maniera chiara voi lo fate più su lo fate secondo me con lo spirito giusto torno a dirvelo non voglio farvi del male da sadico è lì no diciamo su questo per esempio io questo diciamo me lo pongo come problema no cioè il mio dubbio è quello che facciamo effettivamente porta tra 15 anni questa persona a poter vivere effettivamente in autonomia noi qui per esempio qui a fianco c'è il centro di lavoro guidato dove produciamo dei sussidi educativi che poi vendiamo nelle scuole che vengono acquistati perché hanno le loro funzioni educative non perché sono prodotti da persone con ritardo mentale quindi sono prodotti di qualità che servono alla formazione con tutta la loro come dire filosofia dietro e qui il nostro obiettivo è che queste persone vengono per un periodo determinato perché poi devono uscire da qui pronte per entrare diciamo nel mercato del lavoro no pronte nel senso pronte a fare un tirocinio pronte a fare un corso di formazione lei il mercato del lavoro no 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 quello sì però quello che vorremmo fare noi è cioè questo per capire se quello che abbiamo in mente può essere indicativamente su questa strada io non cioè non scarto l'idea che si possa creare un'impresa che produca questi giochi in cui viene assunta come cioè come lavoratrice questa persona ok nella scuola il servizio di cancelleria qui per esempio in questa zona ci sono tre quattro scuole uffici ma manca una cancelleria la prima fotocopiatrice sta a un chilometro di distanza quasi mi viene spontaneo pensare manca la cancelleria apriamo una copisteria qui dove ci facciamo lavorare queste persone o alternativa qui manca il bar nella scuola l'altra volta parlando con la professoressa si diceva fermi io non ti rispondo sion non lo so no no non sion no però no però ti dico queste cose sono esattamente fanno parte di quel comparto come dire realizzazione di sé per un disabile barra anche fare qualcosa di utile per sé per gli altri lavorare che deve essere sottoposto ad un lavoro di studio non basta l'applicazione di quello che state facendo quella roba lì la sottoponete ad un'analisi che è la copisteria stampena copisteria serve per dare il lavoro a uno ma gli altri cazzo fanno come ammortizziamo la fotocopiatrice chi verrà a comprare lì in che circuito sta quella roba eh no questo non lo si fa mai invece capito perché tutti accontenti io l'ho preparato adesso gli ho dato anche la fotocopiatrice arrivederci grazie ovviamente c'è da fare valutazioni sì ma questo questo lavoro è importante dipende anche se il vostro immaginario che invece voi li formate poi entrano nel mondo del lavoro che è l'immaginario del vostro papà è finito il film chiaro le aziende le poche che assumono pagano le multe per non assumere disabili cioè non è che adesso improvvisamente dopo 30 anni cambierà il mondo questo succedeva anche prima della crisi questo vuol dire che bisogna creare i ghetti no bisogna costruirsi delle alleanze probabilmente inserirsi in quei pezzi dove sta cambiando anche l'economia quindi sono cambiate anche un pochino le teste quindi 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 nel frattempo non facciamo nulla e no qualcosa si può fare non so ad esempio qui in città la distribuzione degli alimenti ai poveri dei ristoranti qualcuno la fa o non la fa nessuno la legge al samaritano la fa qualcuno chi la fa per dirti per dirti in altre zone noi 5-6 posti di lavoro reali e li abbiamo fatti così ma certo c'è i disabili che lavorano dalle 9 di sera a mezzanotte nel momento in cui i ristoranti fanno il picco e ti dicono che cosa ormai non consumeranno perché tanto con i suoi clienti sto parlando di roba calda io del banco alimentare però vuol dire che avete fatto una riflessione sul lavoro vuol dire che avete conosciuto i tassi di disoccupazione che ci sono qui la capacità di assorbimento adesso appunto questo è molto importante lo fate solo voi no poi non è che il mondo lo cambiate voi cambiate un cazzo come lo cambio io cioè però questo dà solidità all'intenzione capito gli dà un po' di eh sì o almeno potrete dire oh ci abbiamo provato fino in fondo poi noi ci siamo riusciti però ci abbiamo provato non so ma non mi ci metto neanche a conoscere Taranto così bene ma non mi interessa neanche però appunto domani mattina proviamo a fare una specie di di indice di che cosa potrebbe cosa potrebbe essere questo lavoro sì mi invecchiato mi rompo le palle io vai da un'altra parte io mi fermerei abbiamo detto tante parole di fare il finale basta dire che non c'è bene a volte si pensa che quando uno fa le lezioni corsi per ricevere risposte alle domande non so voi, io sono uscito con molte più domande rispetto a quelle e d'altronde mi è successo anche l'altra volta che ci siamo conosciuti quindi penso che non verrò più a sentire perché è un problema innanzitutto ringraziamo Gianni Dotti per il fatto che ci ha portato non solo non tanto qualcosa come dire, di qualche conoscenza, qualche competenza ma ci ha portato proprio diciamo una vita che da come ha detto prima cioè non la sua da individuo diciamo da singolo ma di diciamo una storia di tante persone che che ha condiviso con noi in questo senso che altro dire penso che possa per stasera possano abbassare qui appunto le parole ci diamo l'appuntamento domani mattina e basta io direi solamente un grazie e soprattutto speriamo di essere all'altezza del dono che ci ha fatto in questo senso certamente è così a domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti